Questo video lo dedico a te. Sì, proprio te. Tu che stai guardando questo video, che non sai perché mi sto spostando così tanto durante questo video. Beh, semplicemente, signori, e per un semplice motivo, volevo provare a fare un video così, volevo vedere cosa veniva fuori. Era semplice curiosità. Niente di più e niente di meno. Semplice curiosità. Quindi, semplicemente, un salutone. Bye bye.